Disse, vedi tu d'ora in poi saprai la verità su come funzionano certe cose ma non la potrai mai dire perché certe cose non possono essere dette e nessuno le ha mai dette perché altrimenti lo fanno fuori e soprattutto perché poi non ti crederebbero se tu le dicessi senza prove